Un potente sisma di magnitudo 7,2 ha scosso la costa neozelandese e spinto le autorità a ordinare l'evacuazione di centinaia di persone per il timore di uno tsunami. L'epicentro è stato a largo della costa settentrionale, a una profondità di poco più di 25 chilometri. La scossa è stata sentita con forza anche a terra, ma non si registrano danni di particolare gravità né vittime. L'allerta tsunami è stata poi revocata.